Giorgio Perlaska salvò 5.281 ebrei ungheresi. È una storia che nessuno conosceva, che lui non aveva mai raccontato, nemmeno in famiglia. Se alla fine degli anni Ottanta due sopravvissute, grazie a lui, dall'Ungheria, iniziarono a cercare quell'uomo che le aveva salvate, non conosceremo questo pezzo di storia, così come non conosceremo il pezzo di storia di Bartali, che anche venne fuori molto tempo dopo, quando nella sua canna, nei suoi tubolari, nascondeva i documenti che servivano alle persone che dovevano fuggire. Ebbene Giorgio Perlaska era riuscito in un'epoca particolare, lui che era arrivato in Ungheria per procurare la carne per i militari italiani, lui che aveva inizialmente aderito al fascismo, soprattutto trasportato dal sogno d'Annunziano, e che poi ne prese subito le distanze quando capì cosa stava succedendo, ebbene Perlaska, che si trovava in Ungheria, a un certo punto, approfittando anche dei problemi che aveva l'ambasciata spagnola, che in quelle ore si stava svuotando, decise di proporsi come console, come diplomatico spagnolo, e come tale riuscì a far salvare, a far saltare quella frontiera da appunto oltre 5.000 persone, ebrei che riuscì a salvare in totale silenzio, perché alle interviste, a chi gli chiedeva a un certo punto, come fece Enzio Biagi, ma come mai lei decise di fare questo? Lui disse, ma perché lei non l'avrebbe fatto? Era questo che si poteva fare, ognuno poteva portare la sua piccola goccia per cambiare il mare, c'era il nazismo che imperava, ma lui riuscì nel suo piccolo a cambiare un grande pezzo di mare, perché quelle persone sono riuscite a sopravvivere grazie a lui, e la cosa ancora più bella, che forse è una cosa alla quale dovremmo pensare, guardando l'albero dedicato a Perlasca che c'è davanti a Yad Vashem, il museo che ricorda tutte le cose e tutti gli orrori di quel periodo storico, i milioni di ebrei morti, ecco guardando quell'albero dovremmo renderci conto di quanto poco ognuno di noi potrebbe fare per fare qualcosa di grande, come quello che ha fatto Giorgio Perlasca. La cosa più grande ancora forse però è stata il suo silenzio, c'è la sua scelta di non matarsi mai di questo, però oggi è un giusto delle nazioni, un giusto fra i giusti, un giusto che dà anche onore al nostro Paese.